Da quando ho iniziato a lavorare ho fatto sempre il portalettere, ho lavorato presso il mio comune di residenza, un piccolo comune di 1200 abitanti che si chiama Corso Marzo. Gran parte del lavoro lo svolgevo a piedi come una volta. La mia passione per la corsa è nata più o meno da cinque anni, è nata per caso giusto perché convienevo mia figlia a danza e nell'attesa ho iniziato prima a camminare e poi man mano a correre vedevo che più correvo e più stavo bene. Per arrivare ad alcuni livelli bisogna allenarsi, sono riuscita a fare tantissime gare ho girato gran parte dell'Italia, ho fatto due volte Roma, Napoli, ho fatto Salerno, Firenze ad ottobre Adesso attualmente sto preparando sempre ad ottobre la Maratona di Venezia, sono riuscito ad ottenere ottimi risultati La gara più bella veramente in assoluto da ricordare è stata la mia prima maratona ed è stata l'anno scorso ed è stata quella di Roma. Quando si corre, si corre per tante ore, molte volte il pensiero è dire basta questa è l'ultima però poi quando arriva il traguardo e indossi la medaglia vuoi subito riprendere. Per ogni runner il sogno nel cassetto in assoluto è arrivare a New York, fare la Maratona di New York. Il prossimo anno vorrei veramente provare a farla